La paura non si vede ma sta crescendo perché si trasmette non solo attraverso il telegiornale per esempio guardandolo mentre si cena ma la paura si trasmette anche avendo rapporti interpersonali con persone espansive ecco perché più persone si assemblano più rischio si corre ed è così che la paura può espandersi e colpire chiunque la paura è più vicina di quanto pensi pensiamoci prima di avere rapporti interpersonali con persone diverse e comunque in quel caso usiamo sempre i dispositivi di protezione individuale paura se la riconosci la eviti se non la riconosci ti uccide